A me e come ha pregato Marco che il Signore possa benedire la predicazione e l'ascolto per la sua parola e questo è un modo speciale che vi usa per nutrire e fortificare ognuno di noi e so che fa caldo, che è estate, fine estate, forse un po' di propa pasta asciutta non so, però proviamo a tenere forte durante l'insegnamento perché senz'altro ci sono tante cose che possiamo riuscire per questa sera e tutto questo è la storia di Signore. Vogliamo prima di tutto pregare e chiedere la benedizione del Signore Gesù. Signore Dio vogliamo ringraziarti per questo momento dove tu parli al tuo popolo, Signore, per mezzo di sedi inutili, veramente Signore per mezzo di sedi inutili. Padre, le persone non hanno bisogno di me o di nessuno, ma hanno bisogno di Gesù Cristo e ti prego, Signore, che la predicazione della tua parola possa, Signore, portare ognuno di noi a contemplare il Padre in Cristo per dire quale grande Dio abbiamo. E grazie per questo dono, Signore, di conoscere il tuo cuore, la tua fedeltà e la tua potenza ora e per sempre. Amen. Allora, Marco ha letto dal primo capitolo di Ruth e sapete, ci sono due cose che sono certe nella vita. La prima è la morte, quella è la morte, e la seconda è che pagheremo tutte le tasse. Ok? E grazie a Dio per la prima c'è una soluzione, per la seconda non so se c'è di meglio pagare le tasse. Però possiamo aggiungere un'altra cosa a questa vista, cioè che esiste la sofferenza. esistono le disgrazie e ogni persona che esiste, che vive, o sia grande, o sia piccolo, o sia ricco, o sia povero, prima o poi incontrerà durante il suo percorso della vita delle sofferenze di vari tipi. Basta che noi ascoltiamo il telegiornale, o vediamo anche intorno a noi, nelle nostre video, nelle nostre esperienze, vediamo delle cose più assurde che capiscono, le cose più strane, impossibili, no? E, come ho detto, sono delle realtà inevitabili nel percorso della vita dell'uomo. Giobbe disse, il capitolo è così, grazie, grazie a Dio, ma l'uomo nasce per soffrire come la favilla per volare in alto. Cosa è una favilla? La favilla è una scintilla, un frammento minutissima di materiale incandescente che si alza o viene sparata da fuoco, e un esempio di una scintilla è un corpo metallo, l'ha visto quando un fadro batte una palla di metallo rovelle, no? Partono delle scintille e la vita è così, la vita è dura perché viene battuta e la nostra vita è breve come questa scintilla, incandescente si spegne subito. situazioni negative possono presentarci all'improvviso e condizionano i nostri sentimenti, condizionano i nostri azioni e uno dei sentimenti più comuni quando ci capita una disgrazia o una sofferenza e alzare il pugno, al cielo, la rabbia. E' facile quando ci capita un male avere rancore verso quello che ci è capitato, noi vorremmo sapere perché ci è capitato questa cosa, perché ci troviamo in queste condizioni e cerchiamo spesso qualcuno da incolpare e spesso purtroppo incolpiamo Dio. Non solo non credenti danno la colpa a Dio, non dovrebbero, non crede a Dio, non dovrebbero dare la colpa a Dio, ma anche i credenti possono facilmente dare la colpa a Dio. C'era un'immagine prima, grazie per inculminarvi, io mi ricordo anni fa c'era un signore che gli morì la moglie e gli morì, si chiamano la figlia di Cano e non so se tu c'è il signore del periodo della Cera. Sì, andando da loro e pregare per loro. E parlando con lui, lui uscì dalla camera sua, praticamente alzò il pugno in alto al cielo e incominciò a bestegnare Dio, dicendo se Dio venisse qua giù cosa gli farei, no? E' una cosa terribile vedere una cosa del genere da una persona reagire in questo modo verso Dio. E come ho detto, questa reazione, non dico la bestegna, ma la rabbia, il rancore verso Dio non è una cosa che è solo per i non credenti, può succedere anche nel più profondo, intimo del nostro cuore, possiamo avere una stanzetta dove siamo arrabbiati con Dio per qualche ragione, per qualche situazione che ci è successo. Abbiamo letto di questa donna chiamata Naomi, e Naomi non era una pagana, non era un non credente, apparteneva proprio al popolo di Dio e la sua vita era caratterizzata da molte pene, da molte disgrazie. E successero tante tante cose. E possiamo dire, umanamente, che dice, beh, avrebbe avuto anche delle scuse per essere arrabbiato con Dio, no? Ci fu una carestia. E cosa è successo? il marito, dovete portare lei e i suoi due figli fuori dal loro paese per emigrare in un paese nemico. I moabiti erano nemici del popolo di Dio. In seguito Naomi rimase vedova, perse il suo marito. Poi dopo perse i suoi due figli maschi e rimase sola con le due nuore, tre vedove insieme, con nessuno per mantenerle. E cosa doveva fare? Dovete tornare in Giuda perché ha sentito che di nuovo c'era Pan in Giuda e di nuovo ritornò nel suo paese. Lei non aveva nessuno che avrebbe avuto cura per lei. Nella sua vecchiaia non aveva una pensione, anche minima come l'abbiamo noi. Loro non ce l'avevano in quel momento. Erano i figli maschi che provvedevano. E lei aveva perso questi due figli maschi. E decise di tornare. E una delle due nuore, Rudy, scelse quale andare con lei a tutti i costi. Infatti tornare. E durante le sue sofferenze, Naomi ebbe degli episodi di rabbia, di rancore verso Dio e di quello che è successo. Una figlia di Dio che ha questi sentimenti. Leggiamo il 1.13. Io ho tristezza molto più di voi perché la mano di Dio si è estesa contro me. Dio ce l'ha con me, sta gridando. Avanti per fuori. E questa era prima di partire. Quando poi ritornò a Bethlehem, disse, così fecero il viaggio insieme fino a loro arrivo a Bethlehem, e quando giunsero a Bethlehem e tutta la città fu commossa per loro, le donne dicevano è proprio Naomi. E lei rispondeva, non mi chiamate Naomi, chiamatemi ma, poiché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamami Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice. Dunque lei si stava sfogando apertamente, pubblicamente, che Dio ce l'aveva con lei, per tutte queste disgrazie che gli erano successe. Ora vorrei fare una domanda, cristiano, sto parlando cristiano qui, ok? Vi è mai capitato di essere arrabbiati con Dio? Vi è mai capitato di essere delusi con Dio? Frustati con Dio. Forse mentre stai ascoltando adesso sei arrabbiato con Dio per qualche ragione, per qualche motivazione. Perché le cose forse non sono andate come volevi tu o come volevamo noi. o perché forse è successo qualche disgrazia che ti sarà rotta la tua vita. Forse sei arrabbiata o arrabbiata con Dio perché sei orfano. Forse perché sei vebola. Forse perché ti sei divorziata. Forse perché hai perso soldi. Forse i tuoi sogni, forse le tue speranze non ci sono avverate come tu volevi. Forse i tuoi figli che non sono convertiti ti portano amarezza verso Dio. O forse, peggio ancora, ci sono persone che hanno perso figli non credenti. E noi possiamo arrabbiarci per tante tante cose, avercela con Dio, e specialmente quando noi preghiamo, facciamo supplichi a Dio, e le cose non avvengono come noi vorremmo, diventiamo facilmente più arrabbiati. E c'è questo pericolo. Ora, la domanda è, è un peccato quando un credente si arrabbia con Dio? E questa è una buona domanda da farci, perché prima o poi o è successo o potrà succedere in ognuno di noi. E se è un peccato, Dio si arrabbia con noi? E oggi, dalla parola di Dio, vogliamo considerare alcune cose, vogliamo imparare cosa possiamo fare se e quando siamo arrabbiati, delusiamo frustrati con Dio. Vorrei rispondere alla prima domanda. Cioè, se è un peccato, arrabbiarsi con Dio. E la risposta è, definitivamente, senza alcun dubbio, e ancora di più scritto rapidamente, sì, è un peccato arrabbiarsi con Dio. Perché è un peccato arrabbiarsi con Dio? Perché sembriamo uno spirito di rancore, di rabbia, verso un Dio santo. Abbiamo ribellione nei suoi confronti e nei suoi progetti, che sono perfetti i suoi progetti. e tutto ciò che succede è alla gloria del suo nome. Dunque noi, quando ci arrabbiamo, abbiamo raccogli, siamo... Non voglio stare fermati con i bestialini, ma comunque... Stiamo... Ci stiamo ribellando verso un progetto santo alla gloria del suo nome stesso. Non è la gloria tua, la gloria mia, la gloria di questa Chiesa, il cristianesimo. Non è la gloria di questo. E alla gloria di Dio in Cristo, ogni cosa che Dio permette. Dunque dobbiamo stare attenti a capire che quando noi siamo tentati o cadiamo in quella tentazione di alzare il pugno all'aria, ci stiamo ribellando contro il Signore. Dio non ci deve niente, cari fratelli. Noi, l'uomo vive come se Dio gli dovesse qualche cosa, come non meritassimo chissà che. Ma già il fatto che mangiamo, che viviamo, che respiriamo, che abbiamo affetti, che abbiamo figli, che non succede tutto il male che potrebbe succederci, che abbiamo sogni, abbiamo speranze, abbiamo Cristo. E' tutto un dono. Anche le cose più piccole, buone, provengono da Dio. Da quella farfalla che passa, da quel fiorellino che vedi, da quel profumo nell'aria dopo la pioggia che senti. Quello è la bondà di Dio attraverso il suo creato. Ma ogni cosa che è male non viene da Dio. Lui lo permette, ma non viene da Dio. E' causa della caduta dell'uomo. Dunque, non possiamo prendercela con Dio. E' una conseguenza di Dio, del buono, della caduta, di ciò che è successo. Perché ci adoriamo con Dio? Perché in sostanza non ci sta bene quello che Lui sta permettendo nella nostra vita. Una seconda domanda è Dunque, se io mi arrabbio con Dio, non ho peccato, Dio, l'onipotente, si arrabbia con il suo figlio che ha arrabbiato con Dio? E la risposta è Grazie a Dio, no. Dio non si arrabbia. Non ha rancori verso Dio. E gloria a Dio per questo. Perché, vorrei dire una cosa prima di tutto, è se sei una persona non rigenerata, se non sei nato di nuovo, Dio ti è il nemico. Dio non è il tuo amico. C'è l'inimicizia tra il peccatore e Dio. Dio è padre, amico, fratello di coloro che sono in Gesù Cristo. Noi abbiamo pace con Dio. Perché Dio ha fatto pace con noi nel suo figlio. Dunque, prima di tutto, da quale punto stiamo partendo? Dio, non evitiamoci che Dio è solo amore. Dio è amore, ma Dio è anche giustizia. Dunque, se tu non hai sperimentato una pentecoste spirituale e personale, se tu non hai incontrato Dio in Cristo, attraverso lo Spirito Santo, se tu non sei stato rigenerato, nato di nuovo, vita cambiata, benedetto dallo Spirito Santo, confessando, battezzando, esamina se appartiene veramente a Dio. Dio non si adabbia con i suoi figli perché vede Cristo in noi. Dio vede Cristo in noi. Lui conosce le nostre tipolezze. Lui conosce la nostra natura. Lui ha misericordia verso di noi. e Lui ha pietà di noi, maltrato i nostri sentimenti, le nostre reazioni. Quando noi non capiamo quello che succede, e anche quello che pensiamo, Dio continua a avere misericordia verso di noi. e posso dire un altro punto che noi noi siamo in buona compagnia perché grandi uomini di Dio, uomini e donne di Dio si sono trovati nella stessa circostanza come noi. Dunque non è... Sì, è un conforto. È un conforto perché noi siamo in buona compagnia di eroi testimoni nella Bibbia che per tempo erano arrabbiati con Dio. Erano delusi, erano frustati con Dio. Ma Dio continuò ad avere pazienza con Lui. Lui continuava ad amarli anche a benedirli durante le loro sofferenze. Mosè si arrabbiò con Dio. Davide era arrabbiato con Dio. Giove era arrabbiato con Dio. Benvenuti per favore. Ecco. Giove cercava Dio perché aveva bisogno di sfogare. Lui erano capitati delle cose che noi non ci cavano grazie a Dio ma ha perso tutto, perso i figli, perso tutto, la salute in poche ore e lui cercava Dio. Dice ma ecco se vado a niente egli non c'è, se è occidente non lo trovo, se è a settentrione quando vi opera. io non lo vedo. Si nasconde egli assù io non lo scordo. Lui cercava Dio era arrabbiato perché voleva esporre la sua causa a Dio e non ce la faceva. Noi siamo, pensiamo a Giobbe, la pazienza di Giobbe. Giobbe non era così paziente. Giobbe era arrabbiato con Dio. Giona era arrabbiato con Dio perché Dio ha voluto salvare un po' non è niente. Giona era arrabbiato con Dio se l'avessimo Dio. Geremia era arrabbiato con Dio. Grande profe. Avanti, per favore. Ora, ascoltate, questo cuore, questo cuore di rancore, sentite Geremia. Maledetto il giorno che mia madre mi partorì. Non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia che è nato un maschio e lo colmò di gioia sia quel uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda e gli grida al mattino e clamori di guerra e mezzogiorno perché non perché non sono morto quando ero ancora nel grembo di mia madre così mia madre sarebbe stata la mia tona e la sua gravidanza senza fine perché sono uscito dal grembo materno per vedere il tormento e il dolore per finire i miei giorni nella vergogna. Lui era arrabbiato era arrabbiato di brutto e si sfogava contro Dio a Dio ti sei sentito mai in questo modo? eppure buona notizia fratelli e sorelle Dio rimase paziente con lui continuò ad amarlo e continuò a benedirli e continuò a portare avanti il suo progetto attraverso di loro malgrado il loro malgrado e sappi che ok puoi fare tu puoi rilasciare i tuoi sentimenti a Dio e questa è una delle cose le soluzioni se tu sei amareggiato con Dio cosa posso fare? beh la prima cosa che puoi fare è rilascia i tuoi sentimenti davanti a Dio sfogati dirlo davanti a Dio con rispetto e rivelenza lui può incassare il tuo dolore lui può incassare quello che tu hai da dire lui può incassare il tuo sentimento e lo puoi fare tranquillamente puoi aprire il tuo cuore e sfogarti davanti al Signore e lui non si è visto come un bambino che fa un cadricio che piange l'amaro sta fermo lo tiene lo calma continua ad amarlo no continuerà a provvedere è così con Dio però con rispetto ed evidenza noi possiamo fare questo perché Dio ci capisce come dice in ebrei avanti per fuori noi non abbiamo un sonno sacerdote che non possa simpatizzare con la nostra infernità ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però come peccato lui si immedesima con quello che tu senti lui sente il tuo dolore lui sa cosa stai passando cosa hai passato dunque sa che va bene rilasciare i tuoi sentimenti davanti a Dio un'altra cosa che possiamo fare è confessare la nostra rabbia grazie a Dio perché quando noi confessiamo i nostri peccati Egli è fedele da rimettere tutti i nostri peccati scusate che ho perso un foglio qui ok ricordiamoci un'altra cosa quando noi stiamo attraversando questo momento che forse quella sofferenza o quella situazione quella disgrazia che stai passando forse è una prova che Dio sta permettendo come disse Pietro Dio permette delle prove nella nostra vita e forse non è che tu hai fatto qualche cosa di sbagliato e a volte noi ci creiamo questi falsi sensi di colpa che Dio mi sta punendo per qualche cosa che ho fatto nel passato non è così forse Dio sta mettendo o tantoli attraverso una prova e lo sta facendo per mostrare il grado la temperatura della tua fede e la tua fede viene misurata attraverso anche le prove vedere come incassi bene se tu tieni forte se tu confidi in Dio se tu pregi se tu riposi in quello che Dio sta facendo o se tu quindi bene e dobbiamo stare attenti perché a volte la rabbia e il rancone verso Dio potrebbe prolungare quella prova perché finché non sei passato attraverso quel fuoco non è finita dunque affrontiamo con fede questo penso che ognuno di noi abbia sperimentato questo momento quando tutto sembra bene io ho avuto un'esperienza anni fa che mi trasferivo ci trasferivo con la famiglia in Australia e le porte erano aperte per noi andare in Australia e andavo in Australia per buoni motivi trovare un lavoro c'era uno sponsor tutto bene fratelli maturi che mi incoraggiavano vai andate in Australia fratelli si venite in Australia tutto aperto consolato venite tutto tutto trovato lì dal primo giorno è andato tutto nero quello il male che poteva succedere succedeva ma questo è incredibile è un incopo economicamente psicologicamente lavorativamente tutto e dico come ma scusa signore abbiamo pregato tutto questo perché a volte il signore ti porta in dei posti in dei ruoli in delle circostanze per metterti alla parola e se non avessi avuto la parola del signore la richieda l'incoraggiamento dei fratelli la chiesa adesso lo vedo una volta passato e dico signore grazie perché ho capito tu in quell'anno hai voluto modellarmi e grazie a Dio e ho avuto Dio come possono le persone vive affrontare le difficoltà delle persone come fanno senza Dio come possono vivere senza il signore senza le promesse di Dio dunque attenzione che non sia una prova sapete durante le sue sofferenze Dio continuava a vendire il Naumi e la stessa cosa con noi quando ci troviamo in questi momenti di difficoltà dobbiamo meditare sulla potenza di Dio non dobbiamo dimenticarci la potenza di Dio durante le difficoltà della nostra vita il nostro Dio è il Dio che ha aperto il Mar Rosso per far attraversare il suo popolo terrorizzato dal nemico che avevano ai falcani questo è il nostro Dio non è il Dio di Israele è anche il tuo Dio se sei in Cristo il nostro Dio mandò un angelo solo un solo angelo che in una nota incise 185.000 soldati assili nemici di Israele un angelo solo 185.000 soldati assili uccisi questo è il Dio potente che è il nostro Dio il nostro Dio è colui che rende sterile fertile come Anna non so se vi ricordate in Anna Anna che pregò incestabilmente perché era derisa dalla nemica era sofferente perché il marito vivono era praticamente preferiva lei sopra l'altra e l'altra la prende in giro perché era sterile e Dio la rese incinta la rese grave dunque Dio fa queste cose ora nel progetto sovrano di Dio per Naomi ci fu una liete fine e Naomi non vide la liete fine non vide la fine del capitolo del suo libro ma la sua nuora Ruth che la seguì prima di tutto fu convertita da falsi dei al vero Dio di Israele Ruth sposò un uomo timorato di Dio dalla loro unione nascua un figlio che si chiamò Obe che lo leggiamo nel capitolo 4 22 Obe era il nipotino di Ruth come Davide è il tuo nipotino no? questo nipotino divenne il nonno paterno del re Dami da Ruth una donna pagana Naomi mandata in un paese strano per disperazione e di questa nuora pagana che la riportò con sé in Israele e questa donna pagana convertita divenne divenne la madre la nonna del re Davide e il re Davide era una figura di vedere Gesù Cristo che renderà per Gerusalemme dunque Naomi non poteva vedere questo in avanti e come noi non possiamo tu non puoi vedere avanti cosa Dio sta facendo in te e attraverso te e attraverso la tua sofferenza c'è un progetto alla gloria di Dio che ha scelto te anche te per portare avanti la gloria del suo nome e tu non sai cosa succederà con i tuoi figli con i figli dei tuoi figli o quell'amico o quel parente o come ha detto Marco prima quelle testimonianze attraverso attraverso quella non sappiamo attraverso una sofferenza siamo pochi siamo strani no? è difficile è una forma di sofferenza però non ce lo crediamo con Dio noi ci dargliamo e adoriamo questo Dio perché è il nostro Dio il nostro Dio è in Cristo che è in mezzo a noi dunque alla sua ansaputa Noè mi lasciò la sua testimonianza anche quella della sua debolezza la sua debolezza è stata una testimonianza che anche noi possiamo assentire è un incoraggiamento per noi questa debolezza lei non poteva neanche immaginarsi ciò che Dio avrebbe fatto alla sua gloria eppure era una donna arrabbiata come Dio come ha detto tu non sai come va a finire il capitolo della tua sofferenza o quello che avrete o quello che avremo perché non è finita però Dio ha tutto sotto controllo ogni cosa che succede è alla sua gloria se sei arrabbiato con Dio arrediti alla volontà di Dio questo lo puoi fare solo attraverso lo Spirito Santo solo attraverso il Signore puoi gettare questi sentimenti negativi per riempirti doppiamente di fede e di potenza dello Spirito confessa la tua rabbia fa piacere Dio sentire Dio direttamente a Dio la tua rabbia ci tentiamo e andiamo avanti sfogati sfogati i tuoi sentimenti davanti al Signore perché come abbiamo detto prima lui può incassare il corpo ed ascoltarlo lui non si arrabbia per te ma ricordati che potrebbe essere una prova quello che stai passando e quello che hai passato e non dimenticare la potenza di Dio in ogni momento concludo con avanti e fuori ecco questa è la parola di Dio non è una parola di un uomo e riposiamo queste parole cosa dice perché io conosco i pensieri che ho per voi dice l'Eterno pensieri di pace e non di male che darvi un futuro e una speranza Dio ha pensieri di pace malgrado la nostra vita grazie a you £1 l'Eterno diversi l'Eterno chi è il centrale